nome mi chiede antonio dove e quando sei nato sono nato il 28 giugno del 2005 a lucena in provincia di foggia sono lato il 29 172 all'uscita all'ospedale che squadra tifi e venda la juventus veramente juventus foggia e foggia ecco quando ai fidanzati ha avuto io due io tre o quattro forse forse piatto preferito la carbonara come buffon e pasta al sugo i scemioti i pacconcini hai un migliore amico si ce l'ho ovviamente il pr5 ce n'avevo da piccolini qualcuno però non ricordo diciamo uno in particolare mario mio cugino più che altro qual è il tuo idolo evidente il mio idolo è da sempre da piccolo alessandro del pieno e dipende da dove partire con gli idoli dalla politica dal calcio oppure dai riporti quali sono gli idoli diciamo buffon ma qual è la tua città preferita veramente torino torino mc3 come vai a scuola ovviamente questa alcuni cosa che stavano in intervista dicevano come va a scuola con la macchina ma invece no vado bene vado bene alla scuola vado bene a scuola quasi in tutte le materie tranne la maledetta matematica che c'è cinque diciamo che in tutte e cinque gli anni in più i tre anni di medie sempre sufficiente andava dopo scuola colore preferito il rosso rosso cosa ne pensi dei tatuaggi è che sono una cosa bella ma però che si esagera perché se ne fanno fine a quale mani è una cosa che può piacere ma lui non lo farà mai che comando tu si ma cosa ne pensi del bar cioè come posso dire è una bella cosa però qualche volta fa incazzare diciamo che una nuova tecnologia del 2017 18 nel campionato insomma però ci sono sempre delle polemiche diciamo doveva un po' addolcire il campionato invece c'è sempre che la juve ruba anche con il bar alla grande ti sei mai ubriacato mai nella vita se diciamo quanto ero al militare nel lontano 92 facemmo la festa di chiusura del militare diciamo facemmo la festa il campionato ma neppi bestemmi qualche volta di me è sentito però bestemmi si quando gioca la juve al foggia ho sentito ieri sera anzi più che in napoli e comunque si bestemmiare no qualche punto esclamativo ti piacciono gli animali ma si si mi piace un animale però il mio preferito ovviamente è il Kelly Kelly è il cane di mio cugino e ovviamente mi piace tra il cane e il gatto ti è piaciuto quello? no ha detto che a me no animali no lui non avrà mai un cane e un gatto perché a me non non sono contro gli animali ma non piacciono forse da grande lui potrebbe comprare un serpente non lo so mai a me fanno vomitare i serpenti i serpenti a mettere sotto i piedi come l'inter ti è piaciuto questa intervista? mi piace si mi è piaciuta tantissimo questa intervista mi sono divertito con mio padre spero che mi sia piaciuta questa seconda intervista no no è tocca a me e se spero che mi sia piaciuta questa seconda intervista dopo quella con Pier 5 adesso arriva anche quella con mio padre la prossima sarà con quella che sta leggendo i coi si i coala e com'è la domanda scusa? che piaciuta questa intervista se mi è piaciuta la devo vedere però per dire se mi è piaciuta ancora non vedo niente quando la vedo metterò un mi piace o un dislike un dislike AMC3 no ma aspetta comunque beh ragazzi spero che questa intervista vi sia piaciuto insieme a mio padre speriamo di arrivare a 100 visual dai con questa intervista con questa faccia da merda ragazzi comunque comunque prima adesso comunque ancora diamo le più sincere condoglianze alla famiglia storica purtroppo oggi è morto è morto è morto il capitano della Fiorentina ovvero Davide Astori ci stringiamo ancora alla famiglia gli diciamo ancora gli diamo ancora le più sincere condoglianze comunque beh ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto commentate iscrivetevi al mio canale ma soprattutto a tutti i video noi ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao